Presidente, oggi in Commissione Lavoro inizia l'esame di una sua risoluzione. Di che cosa si tratta? Beh, guardi, riguarda la manodopera straniera, in particolare riguarda la manodopera rumena. Noi abbiamo una grande comunità rumena in Italia, che è ancora soggetta al regime transitorio per quanto riguarda l'accesso al lavoro subordinato. La proroga scade il 31 dicembre. Noi chiediamo che si vada verso la piena liberalizzazione, proprio per facilitare questo ingresso nel mondo del lavoro, per stabilizzare queste unità lavorative e per far sì che questo ingresso della Romania in Europa sia pieno. Questo concretamente cosa significa per i lavoratori rumeni? È un doppio vantaggio per i lavoratori rumeni, che così potranno soffrire delle leggi che appunto governano il processo di contrattualizzazione del rapporto di lavoro. Per il datore di lavoro che ha maggior certezza sulla continuità del rapporto.